Informazioni e dati crescono in quantità esponenziale ed hanno bisogno di tecnologie di ultima generazione per comunicare sempre più velocemente. Estracom segna la vera novità, prolungando le sue fibre ottiche dalla rete stradale a quella di edificio, arrivando fin dentro gli uffici senza interruzioni, con la massima velocità e affidabilità. Scegli la fibra ottica di Estracom. Con noi il tuo business corre più veloce. Grazie a tutti.